Io da anni mi occupo di tutela della persona e soprattutto ai minori sul web. Sono stata la promotrice grazie a un emendamento della nuova fattispecie di reato, di sexting e revenge porn, cosa di cui abbiamo parlato perché è una fattispecie molto lesiva di cyberbullismo. Oggi parlavamo di media, tv e tutela ai minori. Ecco, io il messaggio che posso dare oggi è questo. Noi abbiamo un Sanremo che inizia con un rapper invitato, la cui canzone quest'anno non riporta nessun incitamento alla violenza, ma la cui canzone negli scorsi anni è stata cliccata 5 milioni e mezzo di volte ed è una canzone che incita al femminicidio. Ecco, io spero che la RAI, che deve fare servizio pubblico ed educare, abbia un momento di restituicienza ed escluda il rapper dalla manifestazione canora più vista d'Italia. Grazie a tutti.